benvenuti a questo primo appuntamento del nostro sport show qui è il mio fianco raksha grazie strike siamo nella settimana che precede il singing day per il nostro quarterback tommaso gollini sembra chiaro che il ragazzo abbia scelto di giocare per l'università dell'alabama già ma come si concilia l'alto profilo di un prospetto come gollini con un posto così bassonella di hip chart in una università che punta molto sulle corse quest'anno si è molto dibattuto sull'argomento ma ascoltiamo prima le parole del giocatore che ai nostri microfoni ha parlato della sua scelta sono sicuro che con il duro lavoro e l'impegno quotidiano riuscirò a ritagliarmi un posto al sole anche in alabama umiltà ma raksha il tuo commento durante la finale per l'assegnazione del titolo di high school nel texas ha sollevato un vespaio di polemiche nell'entourage del giocatore sicuramente si tratta del suo sogno sportivo probabilmente però il ragazzo punta a giocare da professionista nella nfl il rischio di passare almeno una stagione a guardare le partite dalla linea laterale in quale modo è funzionale alla sua carriera sportiva mi chiedo c'è davvero umilità nello scegliere di partire dietro le quinte se davvero credesse nei suoi mezzi come afferma perché non scegliere un college un programma altrettanto prestigiosi ma che gli offrono di partire titolare ovviamente sarà al campo a rispondere non ci sarà appello né possibilità di interpretazione alla responso dei 60 minuti di football seguiremo ancora questo giovane campione nelle prossime puntate arrivederci da raksha e strike a presto a presto a presto